Musica All'inizio è stata abbastanza controllata, pochi tentativi di fuga e tutti ripresi quasi da subito. Poi nell'ultimo giro, negli ultimi due chilometri, ha partito un gruppetto di atleti, mi sono codata, abbiamo fatto la salita e poi ce la siamo giocata nella volata sul rettilineo finale. In realtà volevamo fare una tattica di squadra, io e la mia compagna, solo che non è andata proprio così perché è partito prima un gruppetto, però comunque sono riuscita a giocarmela lo stesso. A miei genitori, alla mia compagna di squadra che mi ha aiutato e a tutti quelli che mi sostengono sempre. Musica